Adesso stiamo pensando alla Ternana, la partita più difficile che abbiamo adesso, la pensiamo a loro e vogliamo continuare a fare bene come abbiamo fatto queste ultime due partite. Io sono contento perché comunque se vinciamo vinciamo tutti, io sono una persona che penso sempre alla squadra e quindi sono contento, mi fa piacere che i miei compagni giocano, mi fa piacere che vinciamo perché fa tornare l'ambiente bello, fa allegria nello spogliatoio e quindi quando De Lì ha fatto il gol penso che sono il primo a saltare e festeggiare il gol. Abbiamo fatto vedere un'altra faccia che ha la squadra, che ha la grinta, che ha la forza di sopportare un risultato e anche abbiamo l'altra parte che possiamo giocare a calcio, possiamo fare un bel gioco e quindi piano piano stiamo crescendo e facciamo vedere che siamo una squadra più completa. Secondo me il Bari, per la mia esperienza che è in due anni che sono qua, penso che qua nel Bari c'è un altro ambiente, c'è una mentalità ancora più grande e soprattutto come squadra, siamo una squadra più unita, si pensa sempre al comune della squadra, si pensa sempre a fare bene e soprattutto di avere un bel ambiente come famiglia, come spogliatoio, un bello spogliatoio, una bella famiglia comunque. Penso che sia stata una scelta del mister, non lo so, non lo voglio chiedere e non me lo deve dire, lui fa le sue scelte e io devo accettare se è buona o male. Ultimamente, due settimane fa, ho avuto qualche piccolo fastidio, però sto tornando piano piano, poi come ti dico il mister fa le sue scelte e non posso dire niente. Secondo me ci siamo adattati alle caratteristiche di questo campionato perché sappiamo che uno lungo è difficile e quindi all'inizio parti di un modo e si sa che devi finire in un altro modo. Quindi ci abbiamo adattato ogni partita, ogni adattamento del campionato, ogni cosa e secondo me lo stiamo facendo bene. Abbiamo fatto vedere che abbiamo un bel gioco, che abbiamo una bella tecnica, una tattica per giocare e abbiamo fatto vedere che avevamo l'umiltà e la grinta per fare le partite come ci vuole. Nella vita è difficile avere un equilibrio, quindi noi ogni volta vediamo come fare il meglio per ogni partita. Se magari non si può fare gol all'inizio delle partite, come vedi all'inizio del campionato vinciamo le partite 4-0, adesso magari la facciamo 1-0 ma comunque si vincono. Quindi gestiamo le partite e vediamo come si può fare e poi se il gol lo fa l'attaccante o il gol lo fa il difensore comunque vinciamo le partite e questo è quello che vogliamo. Stiamo crescendo e secondo me piano piano stiamo vedendo i nostri talenti, le nostre forze e piano piano ci sentiamo più compatti, con più forza. Poi adesso dobbiamo pensare a Ternana perché è la cosa più importante che abbiamo nel momento. Se fosse per me ogni giorno c'era una storia di scherzi, di musica, di cose. Però nell'ambiente che abbiamo dobbiamo essere un po' più attenti a quello che mettiamo sui social, a quello che facciamo vedere. Però sono una persona molto tranquilla, molto serena, che le piace sempre stare allegre, il movimento. Se fosse per me ogni giorno facevo vedere le scherzi che facevamo nella squadra. A questo punto mi ricordo che le persone forti, c'è un richiesto che si può raccontare. Ma non l'hai chiamato su Instagram. Avvecevamo tanti, però... Nello spogliatoio c'è una lista delle frasi ignoranti che abbiamo. Quella diciamo che a fin anno si può fare vedere, sarebbe bello da far vedere. Le vostre frasi, le vostre. Sì, sì. Di chi è quello qui? No, non lo posso dire ancora. Non sarei anche il capo? No, no. No, io ci tengo a pensare a quello che dico perché sennò sarò il re di quella cosa.